Bisogna entrare nei giochi dei ragazzi, il gioco anche tu, partecipa. Giusto, è ragione. Non ci posso credere! Mi fai la mossa dell'uomo tigre. Te lo spezzare un bacio. Buonasera, sono Flavio Natalia, il direttore di Ciac. Saluto Aldo e Giacomo e Dario Brunori, Brunori Sassa. Gli ho voluti qui in collegamento per comunicargli che Brunori Sassa ha vinto il Ciac d'Oro 2020 per la migliore colonna sonora per il film Odio l'estate, che ha per protagonista Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Massimo Venier. Abbiamo voluto fortemente, contraponendoci duramente a Giovanni che oggi per protesta non si è presentato, ma questa sua assenza dimostra che non capisce niente di musica. Lui voleva la carrà. Lui voleva la carrà. Io e Aldo ci siamo in posto e abbiamo detto un po' meglio Dario. E alla fine l'abbiamo spuntata noi. Confermo, confermo. Con Giovanni, tra l'altro non c'era mai stato... Con me tra l'altro ha avuto anche... Mi ha detto no, ma io l'ho sempre voluto. Ma io l'ho visto i messaggi perché poi Giacomo e Aldo mi mandavano gli screenshot su Whatsapp. E quindi lo so molto bene che è Giovanni quello che remava contro. E infatti voglio dire, non c'è e un motivo ci sarà. Appena possibile invertire il senso di marcia. Hai capito? Appena possibile invertiamo il senso di marcia. Appena la careggiata lo consente. E va bene, andiamo avanti a Blibiton. Appena possibile invertire il senso di marcia. E' importante, da Nicola Piovani a Ennio Morricone, ad altri grandi artisti. Che effetto ti fa averlo vinto? In effetti mi era sembrato stranissimo che una commedia... Anche considerando quello che scrivo, diceva la gente... Mamma mia, la commedia è con le musiche di Bruno Risassi. Però devo dire che avevo capito da subito l'attitudine di Massimo Venieri, il regista, che è giusto citare perché è vero che mi hanno voluto Aldo e Giacomo fortemente. Però anche Massimo aveva detto la sua da questo punto di vista. A lui era piaciuto molto il pezzo La Verità. Ma poi d'altronde nei loro film c'è sempre stato questo ruolo della colonna sonora. Una colonna sonora che non dovesse essere didascalica a quello che accadeva da un punto di vista della commedia, ma che restituisse la parte sempre agrodolce che c'è nei loro film, quindi ho capito perfettamente. Ed è stato molto bello lavorare per come l'abbiamo fatto anche. È un premio che esiste, eccolo, lo mostro. Eccolo qua. Ah, è un premio. Eccolo. C'è un premio. Pronto. Lo prendo così virtualmente e lo porto a me. Grazie, grazie. Qui lo dico, finché non lo ricevo veramente, ma non sono sicuro. Io ho brevi mano, lo voglio ricevere questo premio perché... Ci vuole qualcosa di concreto da far vedere alla mamma. Esatto, esatto. Mi raccomando, non per me, ma per mia mamma. Va bene, grazie di cuore. Grazie, grazie a voi. Non mi salutate Giovanni, eh, mi raccomando. Non lo voglio salutare per nessun motivo. Ci fa sentire un pezzo, Dario? Guarda, è proprio quello che stavo cercando di evitare dall'inizio della chiamata. Giustamente. No, in realtà lo voglio fare però, diciamo, questa è una classica pippa da musicista, siccome questi microfoni con cui parlo, queste cuffiette, non sono della qualità altissima per poter riprendere... Mario, facciamo così, tu fingi, io faccio partire da Spotify e tu cerca di beccare il sincro, no? Eh sì, è quello che... Che cosa vuoi cantare, cosa vuoi cantare? Ma fai tu, tanto io faccio un playback comunque, così tipo... Con la mascherina. Con la mascherina. Tanta con la mascherina.